Sono Mauro Capenti, sono il sindaco del comune di Caldarola, un piccolo comune alle pendici dei Monti Sibillini. Ho aderito con entusiasmo al patto dei sindaci con la comunità montana dei Monti Azzurri come capofila per il risparmio energetico. Nel nostro comune stiamo attuando varie misure per contenere il risparmio energetico. In primo luogo la raccolta differenziata, quindi abbiamo applicato in tutta la nostra linea illuminazione pubblica dei riduttori di flusso. Questo ci consente di risparmiare molto nell'illuminazione e diamo anche l'opportunità a chi viene a visitarci di poter ammirare il cielo stellato che ricopre le nostre bellissime case e i nostri bellissimi borghi. Appuntamento è il 18 dove tutti i sindaci d'Italia che hanno aderito a questa iniziativa ci ritroveremo insieme per ratificare anche fra di noi questo accordo, questi intenti di abbattere in generale il consumo energetico.